buonasera benvenuti un'altra puntata di trieste in diretta benvenuti un'altra settimana di trieste in diretta questo quest'oggi parliamo parliamo di cultura sostanzialmente prima ospite la bella signora io dico sempre la bella signora accanto a me che chiara o meno buonasera chiara grazie per essere grazie per il complimento buonasera a tutti è un periodo in cui sono molto gentile per dire la verità particolarmente quindi ma tu sei sempre gentile devo dire la verità sì in un certo senso allora con la quale parliamo del l'international shorts film festival che è iniziato da con ieri no è iniziato sabato ma per non farci mancare nulla abbiamo fatto anche il pre festival quest'anno per cui abbiamo di fatto iniziato già giovedì con con l'omaggio a francesca neri giovedì e venerdì con quattro film così giusto per iniziare in in corsa e poi sabato abbiamo inaugurato con grande soddisfazione sempre in in piazza verdi si sta rivelando un luogo molto molto indicato no per per questo tipo di iniziative ma anche poi per le altre che poi si svolgono no perché raccolto guarda ti devo dire che proprio l'altra sera siccome rispetto agli anni passati il palco è un po più verso piazza unità quest'anno e allora temevamo che andando più indietro arrivassero rumori devo dire che in effetti è un luogo sembra si crei proprio una sorta di anfiteatro dal tergesteo e il teatro verdi e c'è un'acustica che devo dire va benissimo poi quest'anno è migliorato ulteriormente il anche il nostro impianto audio eccetera per cui devo dire che almeno sabato è stato bellissimo è stato un inizio veramente molto così di soddisfazione la sala la sala la piazza era era strapiena e per cui insomma siamo contenti questa sera non ci siete no ci siamo ma alle 11 a quindi quando finiscono il concerto il carmina burana che dovrebbe finire attorno ai 10 e 3 quarti attacchiamo noi facciamo solamente un'ora di programmazione però insomma abbiamo pensato che perché perché non sono sommato chissà chissà che qualcuno di quelli che guardano il carmina burana poi farsi anche da voi ecco questo è anche vero che questo appunto consente anche iniziative voglio dire soluzioni di questo di questo tipo no cioè appunto la possibilità di sì ma infatti sembrava essere un grosso ostacolo inizialmente perché ma dico ma insomma che problema c'è fate voi e poi alla fine vuol dire che poi noi abbiamo sempre comunque la programmazione anche al teatro miela dove ci sono a parte l'omaggio a francesca neri tutti gli eventi speciali e le opere prima in concorso per cui chiaramente lì la programmazione va avanti dalle diciannove in poi ogni sera quest'anno abbiamo anticipato perché avendo tantissime cose da da vedere chiaramente però insomma temevamo un po quest'anno poi c'è da dire va bene io immagino anche poi voi ogni quattro anni siate anche leggermente preoccupati quest'anno insomma vi è andato anche bene essendo l'italia ecco quello che molti non 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 realizzano quando si parla appunto di manifestazioni come questa eccetera e poi anche la considerazione di tutti gli avvenimenti nazionali o internazionali che possono in qualche modo influenzare la è anche logico che se si prescindesse da questo poi non si combinerebbe niente probabilmente no perché io però dire insomma ti devo dire molto francamente che quando a febbraio marzo cominciato ad avere le prime persone che mi dicevano ma come ma sai che se voi iniziate il 29 il 29 se l'italia passa i turni e gioca proprio quella sera dico va bene insomma non poi come dicevi prima in 15 anni ne abbiamo passati altri due sicuramente certo avremmo avuto forse un po di persone in meno perché però è anche vero che adesso magari qualcuno mi tirerà dietro il pomodoro ma non è che tutti seguono solo il calcio per cui probabilmente allora nel giardino pubblico non avevamo mai avuto grossi problemi forse un piccolo calo di pubblico però un anno mi ricordo anche che avevamo proposto al pubblico domani sera c'era mi pare italia germania che giocasse per cui per cui figurati anzi avevamo i proiezionisti nel container che guardavano sul monitorino ricordo per cui avevamo proposto al pubblico se volete facciamo la partita e poi facciamo la proiezione e ci hanno detto assolutamente no escluso anche perché appunto è anche una valvola di sfogo ma sì poi forse piazza verdi sarebbe stato diverso perché chiaramente insomma poi mi metto anche nei panni dei dei bar attorno le televisioni fuori anche la confusione perché per forza di cose però insomma almeno sabato non abbiamo avuto problemi ieri abbiamo avuto il brutto tempo per cui l'abbiamo fatto al teatro miela tutto quanto per la prima volta speravo piovesse perché abbiamo preso questa decisione che poi non ha piovuto in realtà almeno alle dieci e mezza però ha già incominciato prese sì 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 10 e mezza io sono uscita alle dieci e mezza del teatro miela ha cominciato a piovere dopo e dopo venti minuti non è che io mi ero incominciato a leggere un libro nuovo e quindi ed è ripreso da da questo mi dai il titolo l'ombra non è nuovissimo per dire la verità l'ombra è in audi di un autore giovane roger hobs allora senti domanda che si fa ogni anno no quando quando vieni a parlare di della della manifestazione c'è un filone perché scusa non ci mettiamo d'accordo posazzi ed io però insomma è bene prima dopo arriva e io cosa ti rispondo di solito no c'è no però se volessimo trovarlo è casuale è casuale e invece ti stupirò perché quest'anno però è comunque casuale in effetti si parla molto di omosessualità non lo so perché soprattutto tra i giovani e soprattutto in fase così proprio di adolescenza per cui ne ho visti tantissimi poi su quanti ne ho scelti lascio a voi che verrete tutte le sere a vedere i corti scoprirlo però effettivamente questo era un evidentemente una tematica che si è molto ok sentita oppure che si presta maggiormente ad essere raccontata c'era molta c'erano ce n'erano molti sull'eutanasia quest'anno che evidentemente anche un altro d'altra parte è così insomma credo che appunto soprattutto il cortometraggio si presta molto a raccontare poi forse probabilmente sono anche argomenti come dire che consentono che difficilmente potrebbero venire affrontati in un lungometraggio per tutta una serie di cose perché bisogna anche avere una leggerezza nel raccontarli eccetera eccetera e forse appunto la dimensione del corto consente di farlo con più con maggiore attenzione forse probabilmente sicuramente poi insomma sono tematiche che appunto come dicevi tu sai se sviscerate o se raccontate in modo anche particolare perché per esempio c'era un corto ieri sera e utanas sa che racconta di questa vecchietta che i parenti siccome devono andare in vacanza è una storia molto particolare per cui la portano a scegliere come porre figli quindi insomma però ecco appunto in un cortometraggio 5 10 8 minuti uno la racconta e riesce anche a essere anche divertente pur trattando una tematica particolare è anche vero è anche vero che sono temi che il cinema mainstream come si usa dire ha paura ad affrontare perché per esempio secondo me certo è abbastanza incomprensibile che per esempio un film come dietro i candelabri quello su liberaci con con michael daglass sia uscito al cinema negli stati uniti perché perché la paura era quello che fosse troppo gay friendly e così facendo lo hanno in america lo hanno distribuito lo hanno fatto vedere alla televisione e però è abbastanza è abbastanza ridicolo la gente vede più la televisione sicurato però peraltro questo questo è anche vero come oggi forse in america no come forse in america no ma la io sto incominciando veramente ad interrogarmi su sugli americani su cosa sono perché mi pare stanno un po perdendo la bussola posto che l'abbiano sempre avuta ma comunque allora cortometraggi ormai un tempo anche per quanto riguarda il nostro paese il cortometraggio era qualche cosa di sì insomma se ne facevano eccetera mi pare di capire che invece sempre di più come del resto succede anche negli altri paesi ci sia una notevole produzione sempre più sono gli attori anche di una certa fama che vengono coinvolti negli stati uniti questo è anche in gran bretagna insomma in francia dappertutto è abbastanza è abbastanza consueto da noi c'è ancora un po di però per esempio ecco adesso magari quella è un'operazione molto credo studiata molto a tavolino però voglio dire anche questo voce umana con con sofia l'ora in un forse quello medio più che un corto a 25 minuti quello è quello che è può essere uno sperimento chiamiamolo come la persona vuol dire il fatto che del figlio che del figlio di fatto che lo stesso uno come sofia una diva come sofia l'ora faccio un corto beh insomma può voler dire tante cose per chiedersi se non fosse stato edoardo ponti si però però voler dire tante cose però vuol dire anche che è una dimensione sempre più ormai è stato riconosciuto insomma diciamo che sono sono tantissimi gli attori e sono tantissimi anche gli attori che si mettono dietro la telecamera tra l'altro per cui oltretutto credo che c'è la corse se non mi sbaglio c'è uno degli ultimi che ha sì 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 beh ma ma st'andrea insomma effettivamente valentina carnelutti tra l'altro è in concorso da noi con recuiem con il quale ha vinto il festiva di torino quest'anno ed era il suo primo la prima volta che si metteva dietro la telecamera quindi c'è forse anche l'idea che ormai con le tecnologie digitali eccetera insomma forse si ha questa impressione che sia tutto molto più facile in effetti se ci pensi dal punto di vista virgolette tecnico potrebbe essere quello potrebbe essere però ma l'idea è sempre secondo me quella di non so io vedo che l'approccio è quello di boh vabbè dai rilassiamoci facciamo un corto che poi appunto non è poi di fatto non è proprio così però però effettivamente c'è da dire che l'attenzione nei confronti del cortometraggio sulla produzione c'è e questo c'è anche grazie a istituzioni che sono il centro sperimentale che ha fatto la sezione proprio production per cui è nato proprio con la mission di produrre corti di produrre adesso anche documentari e opere prime prevalentemente di registi che siano usciti dal centro sperimentale ovviamente per cui insomma anche quello quindi la produzione devo dire che non è un grosso problema il grosso problema del cortometraggio della distribuzione perché purtroppo al di là di quello che può essere il circuito festivaliero o qualche così qualche realtà spot televisiva si comincia infatti noi faremo un interessante dibattito proprio su questa tematica il sabato 5 luglio al mattino con tutti i registi di corti che saranno presenti non solo italiani perché ne vengono parecchi anche da fuori e registi di lunghi insomma le giurie che saranno presenti quindi è quattro punti di riferimento su della distribuzione in italia sembra strano che sky non si muova in in tal senso no c'erano dei canali che sono scomparsi dalla piattaforma che dedicavano degli appuntamenti settimanali proprio ai corti eccetera adesso non vedo più e su sky non mi sembra che abbiano questa questa tendenza no c'è solo c'è la realtà che è a noi vicina tra l'altro di studio universal perché dà il premio proprio il miglior conto italiano e che consiste nell'acquisizione dei diritti proprio per cui si sta muovendo qualcos'altro anche a livello di mediaset infatti avremo qualche un intervento specifico insomma e anche su altre realtà il grosso problema è che quando un ragazzo giovane che non abbia soprattutto alle spalle una realtà produttiva importante quindi no però sono tanti i ragazzi giovani la prima cosa che fanno è che lo piazzano su youtube e lo divulgano perché ma quella è veramente per certi aspetti una manna dal cielo perché effettivamente è visibilità però non si rendono conto che si bruciano il progetto e il prodotto che vanno a fare e che quindi molte volte insomma sì sì dopo non può cioè noi vediamo che chiedere le liberatorie anche solo per partecipare alla possibilità di avere un premio molte volte diventa difficile proprio perché o l'hanno messo su youtube o l'hanno messo su vimeo o l'hanno messo su tutte le piattaforme possibili e immaginabili per cui diventa comunque poco interessante il mondo di youtube è popolato di individui stranissimi che realizzano delle magari delle cose per divertirsi eccetera ma che poi se dopo li si guarda da un certo punto di vista sono delle cose che durano due minuti ma anche alcuni fatti peraltro anche molto bene dal punto di vista tecnico insomma c'è un tizio che poi il bello è che ci si imbatte in queste cose qua senza andare nemmeno a cercare certo tu metti là vai là parti da Gregory Peck e arrivi a Smosh piuttosto che a Mr. Safety insomma ma questo mi dipende anche dal tempo che uno ha per passare davanti a queste cose c'è un appuntamento, ci sono solo un paio di appuntamenti parecchio curiosi per esempio questa attenzione che viene dedicata mercoledì, sono il 2 luglio, cos'è mercoledì? sì ai giapponesi beh sì dopo l'India passando per il Kazakistan siamo finiti in Giappone devo dire che grazie alla collaborazione con questa associazione italo-giapponese di cultura italo-giapponese che si chiama Yujo, tra l'altro nata da poco, da un anno è nata così l'idea di fare il focus su quel paese, focus che non sarà solamente cinematografico ma che prevede un'esibizione di danza classica mercoledì alle 19 al Teatro Miela poi ci sarà appunto in collaborazione con lo Shorts Shorts, che è ben più difficile di Shorts ma è Shorts Shorts Film Festival perché siete tutti quanti amici di dentisti è il più grosso appuntamento di cortometraggi in Giappone per cui è questo festival molto grosso a Tokyo poi loro diranno Shorts Shorts quindi in collaborazione con loro abbiamo fatto questa selezione tra 60 che loro ci avevano proposto siamo arrivati a 13 o 14, mi parli di 14, cortometraggi di ultima produzione per cui sono tutti 2013-2014 nell'intervallo faremo chiaramente una degustazione di sushi per cui saremo tutti lì a mangiucchiare, a bere questo sarà mercoledì sera al Miela e invece il giorno dopo ci sarà un'esibizione del maestro Nagayama di calligrafia al Museo Revoltella alle 19 poi c'è un'altra cosa da dire quando si parla di cortometraggi c'è ancora l'idea che siano fiction, insomma diciamo così nel senso invece che esistono anche i documentari corti e questo è un altro universo molto interessante da esplorare sì, io ti devo dire che è una scelta sulla quale mediteremo in futuro perché ho sempre avuto un po' di difficoltà posto che il premio è un premio fondamentale da noi che è il premio più importante di 10.000 euro per cui ho sempre trovato un po' difficile mettere in concorso assieme animazione, fiction e documentari per cui c'è una tendenza quasi naturale anche perché su 1.212 corti che sono arrivati quest'anno chiaramente ce n'erano tanti documentari anche che vengono, insomma che noi non prendiamo non è che non prendiamo in considerazione non selezioniamo pur prendendo in considerazione e ci stiamo meditando perché il prossimo anno però forse quello meriterebbe una sezione a parte proprio documentaristica Bruno e Gina invece che cos'è? quello è un evento speciale che è un documentario però chiaramente non è in concorso dura 70 minuti lo faremo giovedì mi pare giovedì sì, giovedì pomeriggio alle 19 al Teatro Miela e racconta la storia attraverso immagini chiaramente documentaristiche soprattutto dell'Istituto Luce ovviamente di questo rapporto d'amore tra Bruno e Gina Bruno era il figlio di Mussolini tanto amato e tanto è una storia molto particolare che invito tutti a vedere perché ti tiene inchiodato per 70 minuti parliamo un po' del momento che sta attraversando appunto nel nostro paese a Trieste in particolare ne parliamo sempre però giova anche ripetelo chi fa cultura no? com'è la com'è la questione? ridi no? sì beh è difficile perché è difficile in tutto il paese anche se questo ormai bisognerebbe sì vabbè premetterlo ad ogni ad ogni discorso no? però ecco sì ma sai però io sono sempre un po' dell'idea ogni tanto discuto con i miei amici sia di Cappella sia di Trieste Film Festival con Germani insomma cioè ogni tanto dico forse di tutte queste difficoltà parlo da un punto di vista economico prettamente in questo momento perché purtroppo la grossa difficoltà è quella insomma in questo momento riuscire a far quadrare i conti e a far stare in piedi delle manifestazioni che se non vivo non possono vivere solamente di contributi pubblici anche perché per quanto mi riguarda ritengo non sia giusto e io devo dire che in questo momento una ripresa dal punto di vista una piccola ripresa dal punto di vista degli sponsor privati l'ho notata quest'anno nel senso che sono convinta che se hai manifestazioni di un certo di un certo tipo di una certa qualità la cosa più importante è fidelizzare lo sponsor storico che noi per esempio abbiamo e che sono 5 anzi questo è il sesto anno che ci segue e che anzi incrementa la volentieri l'Enel si può dire però devo dire che accanto a Enel c'è vabbè c'è Piquadro che tra l'altro dà il premio del pubblico e che è anche sicuramente del terzo anno che ci segue e da quest'anno abbiamo una new entry che è già a Guara che ci ha cercato per cui devo dire che la soddisfazione è stata quella di quindi qualcosa perché ha cercato una manifestazione di una certa caratura chiaramente di qualità evidentemente questo da soddisfazione perché dopo 15 anni siamo arrivati ad una certa così considerazione nel e soprattutto che evidentemente è chiaro che è legato al territorio al loro interesse il territorio interessa per motivi chiaramente di marketing la zona Friuli-Venezia-Giulia Trieste eccetera per cui hanno cercato in questa zona una manifestazione che potesse quindi una ripresa c'è forse la grossa difficoltà sta nel nel rapporto ma non solo nel rapporto ma non tanto nel rapporto proprio nella con i contributi pubblici perché le amministrazioni pubbliche sono sappiamo come sono insomma sono loro stessi i primi ad avere grossi problemi per cui sai il grosso del problema è che quando un'amministrazione pubblica ti paga dopo 180 giorni nel frattempo è sistema 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 quindi perché questa sarebbe stata la prossima domanda che mi facevi io continuo a crederci continuo a credere che sia il modo per uscirne il modo per riuscire a a mantenere determinate realtà in piedi inclusa la nostra perché la casa del cinema come sta come procede l'idea la 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 a parte il fatto che vabbè insomma siamo prossimi pare ad iniziare i lavori per cui quindi sarà prossimi mesi insomma dei mesi un po' che però ci costringeranno gioco forza a stare tutti sullo stesso piano nelle stesse camerette eccetera per cui chissà che non ne esca qualcosa ma sai si dice sempre che nei momenti di crisi che si aguzza si aguzza l'ingegno ci si fa venire delle idee per sopravvivere eccetera con chi si sta insieme insomma poi questo è un altro discorso sì vabbè però insomma simpatici ci siano simpatici l'idea è notevole e deve essere sopportata no non sbagliate sopportata supportata ad ogni ad ogni livello perché poi se è vero che uno dei volani per il turismo in città è rappresentato anche da sia da manifestazioni come la vostra sia anche poi dall'altra faccia della stessa medaglia cioè della possibilità che ha Trieste di apparire in altre in altre idee di apparire non so appunto come set di telefilm film e cose del genere beh bisogna assolutamente darsi da fare perché tutto ciò non venga e le prove e le prove che la gente viene a Trieste per questo tipo di cose ce ne sono perché basta chiedere molti ti dicono l'ho vista in tv beh guarda io tra l'altro sono molto soddisfatta e contenta perché quest'anno abbiamo abbiamo proposto dei pacchetti turistici in collaborazione con Civili in Viaggi proprio per attrarre nei tre giorni conclusivi li portate anche nei ruoli del cinema sì facciamo la passeggiata probabilmente ne faremo una sola perché chiaramente farne due è un po' complicato ma per la gente perché insomma poi il venerdì la gente lavora eccetera per cui probabilmente siamo in fase di definizione daremo comunicazione proprio nelle prossime ore e dovremmo farne una sola concentrata il sabato mattina dove li portate? ma li portiamo in giro a Trieste più o meno ovunque perché ci sono mille angoli e cercheremo di non ripercorrere quello che è stato già anticipato a gennaio quando l'hanno già fatto a Trieste Film Festival però io trovo che sia tra l'altro ho scoperto ho scoperto insomma già si sapeva però a Lisbona lo fanno a Barcellona lo fanno a Berlino lo fanno a Milano lo fanno cioè sono le passeggiate cinematografiche sono una realtà che insomma e che a Trieste non poteva assolutamente mancare abbiamo proposto questi pacchetti turistici e effettivamente adesso ho avuto proprio pomeriggio la conferma di gente di gente che ha prenotato che viene a fare i tre giorni a Trieste durante i festi al mare a metraggio perché coniuga la voglia di vedere la città con l'interesse per il cinema eccetera per cui sicuramente è la strada giusta poi che sia più facile farlo magari in estate piuttosto che in inverno questa è anche un'altra cosa per cui una realtà come la nostra forse è agevolata da questo punto di vista è un piccolo inizio però siamo molto contenti allora io ringrazio Chiara Omero come sempre per essere venuta a nostra ospite ricordiamo che voi andate avanti per tutta questa settimana no? sì noi finiamo ogni sera alle 7 al Miela e andiamo avanti con tre film ogni sera e a parte la serata giapponese alle 9 e mezza in Piazza Verdi tutte le informazioni su www.maremetraggio.com sulla pagina facebook twittiamo tantissimo ah una cosa le due immagini anzi sì ecco Marilyn e Mel Gibson perché abbiamo fatto l'immagine sia il maschile sia il femminile ci sono due sagome giganti alte 3 metri una l'abbiamo posizionata proprio oggi all'interno della galleria Tergesteo e l'altra è al Miela andate fatevi la foto contest con l'hashtag Mare Shorts e chi vince vince un viaggio alla Berlinale per cui tre notti a febbraio alla Berlinale da un piccolo festival come il nostro a un grande festival come il loro ok grazie ancora a Chiara Omero buon lavoro grazie pubblicità poi parliamo invece di un altro argomento molto molto atteso che è il concerto di Riccardo Mutti del giorno 6 luglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti